Quali sono i moduli molto rapidi e focalizzati di Skill Lab? La logica che c'è dietro è che questa è una fase di grossi cambiamenti anche tecnologici, non solo tecnologici, se no sarebbe facile. È un flusso di tecnologie veramente impressionante che ci sta complicando la vita e la digestione del cambiamento tecnologico. L'industria 4.0 è un tema qui molto conosciuto ma tutto si tiene e l'impressione è che ci sia bisogno, ci possa essere bisogno di una fase di preformazione, di creazione dei punti di riferimento, del sistema delle idee. Cioè prima di decidere cosa fare, molte imprese hanno bisogno di sapere di cosa stiamo parlando. È anche la condizione per esempio per decidere poi di far partire cicli di formazione più completi. Quindi indubbiamente se non so quali sono gli obiettivi, cosa può succedere, probabilmente non decido. Quindi qui l'idea è due moduli, nel caso specifico quello che seguivo sono 4 più 4 ore, il primo dei quali è veramente introduttivo. Cioè la descrizione di ciò che sta avvenendo, di cos'è davvero quello che sta avvenendo. Si parla soprattutto di social media perché è un tema che è anche conosciuto, è praticato, è praticato male, è praticato il livello individuale ma non aziendale, chi più ne ha più ne mette. In realtà si parla di un mondo digitale in cui social media sono una delle forme di rappresentazione sia per le persone che per le aziende. E il secondo è il punto più operativo, cioè il presupposto è 4 ore per capire cos'è tutto ciò e 4 ore per cominciare a prendere una misura un pochettino più aziendalistica delle cose da fare, delle priorità, delle scelte di tipo organizzativo, degli errori macroscopici da evitare perché sono stati fatti da tutti eppure si continua a farli eccetera eccetera. Dovrebbero poi seguire altri moduli sempre da 4 ore ancora più focalizzati. Esempio il marketing con Facebook, B2B o B2C è irrilevante, tanto quanto Facebook non è un luogo per marketing gratuito, con buona parte di quello che si pensa, il marketing gratuito su Facebook non funziona, tanto è un'eccellente piattaforma a pagamento per comunicazione e marketing. Bisogna prenderne atto e bisogna capire a questo punto aziendalmente se c'è un budget, che budget è e che cosa ci si aspetta. Come per qualunque altra linea d'azione di marketing, uno dei presupposti artificiali di tutto ciò è il marketing online è gratis, nessuna attività di marketing lo è, quella lì sì, è falso, talmente poco significativo che infatti è falso. Non è gratis, è gratis fatto malissimo, fatto senza risorse, prendendo persone che non hanno l'esperienza, né la capacità, lo stegista con l'essere maiuscola e dandogli in mano gli account aziendali, cioè l'azienda online, e poi piangendo perché succedono delle cose che non dovrebbero succedere. È proprio una sequenza di errori garantiti. Ecco, per evitare queste cose, per capire un po' meglio quali sono i parametri, i parametri su cui decidere, si è pensato a questi seminari. Poco tempo, un po' di informazioni, una riflessione e poi un corso d'azione però consapevole. Grazie. 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 Grazie.